Avete presente quando siete in casa, state cercando il vostro animale domestico e incredibilmente l'animale domestico si nasconde da voi perché un po' fate schifo Ecco, è quello che succede con il mio cane Però, a prescindere da questa situazione qua, esiste un gioco chiamato Hidden Cats Vediamo come funziona Eccolo qua, allora abbiamo Sandy, Coco, Loki, Oscar, Tiger, Bubble, Cleo, Felix, Mittens, Molly e Bandit Ok, partiamo subito con... vai ma se io clicco a caso scusami? E vabbè ma me li trova Questo era Coco, ho capito ma... io li vedo i gatti eh, cioè posso cliccarne a caso Sicuramente qualcuno mi compare Vedi, però li sto cliccando a caso, ma scusami non vale Come qua dentro E vabbè, allora è molto più facile di Hidden Folks L'ho fatto io sto effetto, vabbè, facciamolo per bene dai Anche se effettivamente potrei evitare di farlo cliccando su tutti i gatti che ci sono C'è uno qua, questo qua è morto, non può star dormendo Vabbè, allora Coco li ho fatti tutti Tiger, eyes open landscape, often found staring into the horizon Guarda l'orizzonte, quindi qua Grande Tiger Bubbles, ah, e perché hai messo in una posizione strana, come fa a essere... eccolo No, non è lui, questo qua è Solid Snake Ha una posa veramente strana con la coda così Quindi è strano che io non lo veda Questo qua era l'altro sicuramente Guarda zio, ti sei nascosto veramente bene alla fine, perché io giuro non ti vedo Eccolo, minchia ho cliccato a caso, non l'avevo visto mai, minchia meno male Indoor vuol dire che sta dentro un edificio Però siamo a... ah, ecco Pirla, non l'avevo visto alla finestra Bello Proprio lui, li trova tutti, you found them all Tipo i Pokémon Ma come? È finito Ma no, ma no, era cortissimo Ma basta, ma dai Ma era facile Dai, per favore Fammi fare un altro, ti prego Proviamo a trovare un altro gioco di gatti che si nascondono Questo è un video di YouTube, siamo ridotti a questo Perché il video era troppo corto, vabbè Vabbè, questo era facile Vediamo se riesco a trovarti gli altri Ah, è più difficile Aha Cosa è diventato sto gioco? Eccolo, eccolo qui in basso a destra, l'ho trovato Sta qua nascosto Aspettando che qualcuno passi per aggraffiargli lo stinco Aggraffiargli è un nuovo verbo, eh Allora, questo mi c***o sarà mimetizzatissimo qua Ragazzi, qua non lo sto... vi giuro che non lo vedo Qua vi giuro che non lo sto veramente vedendo Dov'è? Oh cacchio Ah No, ah è questo Questo, è questo qua O no? È questo che non è un gatto Questo non è un gatto teoricamente Questo qui È questo che non è un pupazzo Non è un pupazzo teoricamente È questo Questo qua Raga, non lo sto vedendo neanche col cerchio io Ma che c***o Ma dov'è? Ma dove? Ah, è vero Questa è la coda E questo è il gatto Madonna, non l'avevo visto proprio Ma che pirla Ecco, vedi, ho sbagliato Beh, questo è facile Ma è meno male che ho detto che è facile Non lo trovo Ah, è qua, minchia, là sopra Va bene Ma passate dalle cose difficilissime A delle cagate Allora, questo quasi sicuramente non è un gatto Però questo lo è Quello a destra Perfetto Da, meno male che si è passati da le cose Quello che non ho trovato era difficilissimo Questi sono ne cagati in confronto Allora Ah, ce n'è uno finto qui Dio mio Quando lo vedrai cagherai i mattoni Porca vacca È bruttissimo C'è bruttissimo C'è uno sguardo spiritatissimo sto gatto Va bene, siamo ridotti a questo ragazzi Il mio canale si è ridotto a trovare gatti Guardiamo video di gattini Cioè ragazzi, se questo non è il canale con più iscritti d'Italia Porca vacca Non potrei sapere chi altro potrebbe farlo Avete dei tappeti attaccati ai muri voi in casa? No, io vi faccio questa domanda Perché io non ho mai capito Chi ha i tappeti attaccati ai muri Che cazzo li attacca ai muri? I tappeti vanno per terra E come mettere per terra un quadro? Cioè non ha Io non ho Boh, vabbè Vabbè, questo era proprio difficile da trovare Soprattutto è difficile vedere il casino che ha fatto Very nice Sempre in alto Quando non lo vedi perché c'è un sacco di roba è sempre in alto Comunque Non sto veramente capendo se tutti questi video di gatti In qualche modo Siano visti dalla gente Non ho visto le video di sto video E sono veramente curioso di vederlo Dopo averlo registrato Perché veramente Sono mega curioso Niente, è finito Fammi vedere quanto è visto questo video 46.000 views Complimenti Ha fatto anche find the cat 2 Che non so quanto valga la pena fare Però Find the cat in the field Trova il gatto nel campo Questo innanzitutto non è un campo E' tutta merda Però vabbè Troviamo il gatto Ah, devo farlo In tempo devo trovarlo pure Minchia, no? Io faccio cagare in ste cose, raga In tempo non lo troverò mai Ma neanche se stop Qua? E questo? Non lo so No, vi giuro non lo vedo Questo? No, ma non vedo niente Inizio Infatti che la foto è stata scattata Eccolo Qua, questo qua, questo qua Ho trovato la fine Questo qua Quindi Ma come? Ma dove? È vero Madonna No, ragazzi Ma poi se scattate le foto con le patate Cosa, cosa pretendete? No, ma non li vedo Regà Eccolo Minchia, l'ho trovato Non l'avevo visto proprio Beh, benissimo Questo qua è già più difficile Ok Sì, vabbè Poi vi ripeto Scattate veramente male ste foto Porco del demonio Come faccio a trovare un gatto qui? Minchia, ditemi se voi l'avete visto Non barate Iscrivetevi i commenti se l'avete Eccolo Minchia, l'ho trovato subito Cioè, subito no Ci ho messo quasi tutto il tempo Però, guarda qua Vedere Very good Due su tre Credibile Ragazzi, basta Basta, basta Mi sono rotto la Cioè, questo è veramente Il punto più alto del mio canale Basta Questo proprio Più di così Non possiamo fare niente Più di così C'è solo, penso, Pietro E poi dopo Forse anche Charlie Moon Però non lo so Basta Spero che il video vi sia piaciuto Per voi amanti dei gatti Sicuramente Iscrivetevi al canale Schiacciate il tasto mi piace E commentate Se anche voi avevate trovato Tutti i gatti FavijTV 2020 Signori Questo è il canale A cui siete iscritti Un bacio Bella Ciao 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 Ciao